Inizio, 2, 1, inizio e ripetendo! Io non intendo parlare di un gioco per cui ho molto hype ma che non è ancora uscito ed è in early access ma voglio consigliarvi se anche voi state aspettando come me spasmodicamente Baldur's Gate 3 un'alternativa molto valida tra l'altro anche tradotta con una mod con una traduzione cercate online lo trovate non è questo il canale giusto diciamo per il tutorial di installazione della mod di traduzione. Il gioco è Solasta, Solasta lo potete trovare su Istan Gaming con il link qua sotto oppure su Steam ed è come sarà Baldur's Gate 3 una trasposizione della versione 5 di Dungeons & Dragons ovviamente poi sotto andate a vedere nei commenti e qualcuno avrà sicuramente scritto perché ce l'ha in italiano il gioco non è in italiano di base su Steam dovete scaricare la traduzione e seguire scrupolosamente la guida. La cosa molto bella di questo gioco è che è tradotto non è ancora perfetta ci sono ancora tante cose non magari non tradotte al 100% ma ci si passa sopra e secondo me il gioco per gli appassionati di gioco del ruolo è giocabile anche in inglese con un po' di pazienza però si può fare. Infatti in alcune classi quando andiamo a vedere quelle che sono le abilità concesse a livelli alti vedete qua a livello 14 non c'è ancora la traduzione. La possibilità è molto figo come gioco perché è possibile come il cartaccio scegliere l'equipaggiamento iniziale quindi se in questo caso io ho scelto il mago cosa che farò anche su Baldur's Gate 3 andare a scegliere se avere un oggetto oppure la custodia dei componenti perché qua la componente somatica la componente materiale è riprodotta fedelmente. Quindi anche il fatto di avere uno zaino con componenti per lo studio o per l'esplorazione è possibile fare veramente tante cose è tutto simulato come fosse un gioco da tavolo quindi scegliere proprio il background del nostro personaggio ci saranno i tiri di dado all'interno del gioco se vi va andate a vedervi il video gameplay che avevo fatto forse un paio di anni fa su questo gioco era in inglese però lo avevo giocato e avevo fatto anche la simulazione di qualche combattimento. Però questa dato che io sto esplorando diversi giochi di ruolo in attesa di Baldur's Gate sto giocando anche a Pathfinder ho riprovato il vecchio Baldur's Gate 2 tutti molto belli tutti molto diversi però qui abbiamo un combattimento a turni di default su Pathfinder è stato giunto dopo. Ho finito anche Pillars of Eternity 2 vi consiglio anche lui perché la loro è pazzesca vedete che qua sto andando avanti a vedere le varie tipi di personalità e le personalità aggiuntive che poi determineranno il nostro allineamento tra il legale, il caotico, il buono e il malvagio. Un mix tra questi e qua molto bello perché c'è la possiamo simulare il tiro di dado e acquistare i punti con dei punti messi a disposizione in questo caso possiamo andare a mettere considerando anche il bonus della razza umana che ho messo che è un più uno a tutto che è cambiato rispetto alle versioni 3.5 o 4 della versione di D&D. In questo caso vabbè essendo un mago, intelligenza, la costituzione per avere più punti vita e fine non serve altro, è un buon punteggio, è un buon personaggio insomma e c'è la possibilità poi di scegliere le competenze che nella versione 5 di D&D è stata semplificata rispetto alla versione 3.5 che aveva una marea di abilità, adesso la percezione comprende ad esempio l'ascolto e l'osservare insomma, le competenze di anima matura le possiamo vedere lì e possiamo scegliere le lingue che sono molto utili perché se dobbiamo mai parlare o affrontare dei dialoghi con delle creature particolari, se le conosciamo lo possiamo fare. La selezione degli incantesimi è fedele a quella che è l'elenco di incantesimi di D&D, questi dovrebbero essere i trucchetti, quelli di livello 0 e qua abbiamo poi il livello 1 ma rivediamo nuovamente la scelta degli incantesimi, il dado di fuoco, questi in genere sono incantesimi che si possono lanciare forse illimitatamente, adesso non ricordo di farci la mano questi invece sono, il mago ne ha caricati un tot, noi ne conosciamo tanti ma ne abbiamo caricati un tot al giorno e poi dobbiamo dormire e riposare e la cosa molto bella è che se avessimo fatto l'elfo, l'umano deve riposare 8 ore e l'elfo ne bastano 4 in concentrazione neanche in sonno e poi vabbè la selezione del personaggio che non è assolutamente nulla di spettacolare nel senso che in questo caso la mia scelta del nome play e sì poi il fatto di avere vabbè la selezione della pelle, la selezione del colore della pelle, le decorazioni del corpo, vabbè queste sono tutte cose marginali e praticamente poi la selezione dei capelli non sono assolutamente nulla di particolare, nulla di bello ci sono anche le cicatrici, i capelli non sono belli, assolutamente no, men che meno le barbe però va bene allora le barbe poi vabbè sono le classiche fatte un po' così come ho già detto però diciamo che la soluzione ideale in questo caso è tenere qualcosa di molto sobrio così e basta poi vabbè si può scegliere il fisico, l'età, la voce, insomma le varie cose che salteremo e l'inizio dell'avventura impone di giocare con almeno quattro personaggi quindi abbiamo diversi personaggi, noi abbiamo quello che abbiamo creato possiamo crearli tutti o andare a prenderne altri già creati dal gioco che è la cosa che faremo giusto per avviare la partita infatti vedete qua non si può avviare, bisogna segnare tutti i personaggi perché deve essere per forza un party da quattro quindi dobbiamo cercare di bilanciare, quindi in questo caso si può andare a mettere in elenco per le classi per le razze, per il livello sono tutti di livello 1 se non sbaglio quindi è importante avere magari un ranger per l'attacco a distanza insieme a noi perché alla fine diventeremo anche noi stessi dei ranger una volta finiti gli incantesimi quindi potrebbe essere importante portarci dietro un guerriero e un qualcos'altro che picchi pesantemente ci sono sempre quei maghi, stregoni o qualcosa che crei la vita ecco, un cherico ad esempio l'avventura inizia e come potete vedere è stato anche sottotitolato tutta quella che è la parte video anche i suggerimenti nei caricamenti vi dico installare la traduzione trovate le istruzioni sul discord del gruppo di traduzioni che l'ha fatto dovete seguirlo scrupolosamente anche se una cosa vi sembra un po' così vi dice di decomprimere una cosa lì non decomprimete la la perché non funziona dovete fare esattamente quello che c'è scritto adesso saltiamo vedete? tutto tradotto la spiegazione dell'inizio poi c'è tutta una serie di tutorial molto belli che mi pare abbiamo fatto nel video che avevo fatto anni fa che ci spiegano tutto il sistema di combattimento e di utilizzo delle abilità ad esempio io prendo l'incantissimo caduta morbida ed è importante perché la caduta di un personaggio se non supera la prova avviene e fa perdere vita quindi è veramente molto carino questo è il classico sistema di controllo che poi va, verte poi nel combattimento a turni quindi è quadrati e movimenti e vale varie noi adesso stiamo partendo con uno dei personaggi che abbiamo preso all'inizio con il movimento nel dungeon ecco, questo era il solastra in attesa di Baldur's Gate 3 ormai non manca molto però questo può essere un'ottima alternativa alla prossima ciao ciao